Guardare all'Africa con occhi nuovi, investendo in formazione, educazione e innovazione culturale. E' questo il messaggio che il sottosegretario agli esteri Mario Giro ha lanciato durante l'evento Italia e Africa tra cultura ed etnologia, ospitato il 19 novembre a Villa Madama. L'incontro rientra nell'iniziativa Italia-Africa, avviata nel dicembre 2013, per promuovere un rinnovato legame con il continente, che si sta sempre più affermando come attore internazionale a livello politico, economico e socioculturale. Dopo il segmento dedicato all'agricoltura e all'energia, questa volta a far da protagonista è stata la cultura, fondamentale per uno sviluppo sostenibile in un contesto di integrazione regionale. La cultura e l'etnologia determinano il nostro modo di essere, di agire e di interagire come individui e società. Oggi ci volgiamo alla grande ricchezza della cultura africana, antica di millenni. Dobbiamo investire nei settori della formazione, dell'educazione e dell'innovazione culturale. Certo non possiamo dimenticare il persistere di situazioni di crisi, di conflitto, ma dobbiamo guardare al continente con occhi nuovi. È ormai chiaro che l'Africa si sta affermando come un vero protagonista internazionale a ogni livello. Bisogna guardare non solo alle risorse della terra africana, ma agli africani come risorsa. I giovani africani, la loro creatività, la loro capacità di innovazione e di intrapresa, incluse naturalmente le donne che tanto hanno fatto nel mondo, ma in particolare in Africa. L'Italia, grazie alla sua geografia aperta al profilo e al bacino del Mediterraneo, grazie alla sua storia, alla sua cultura, affinché i figli sappiano ricevere e viaggiare con la stessa felicità, può contribuire grandemente all'arricchimento dei popoli nel rispetto della loro diversità. L'anno prossimo, nel 2015, a Milano, organizzando l'esposizione universale, l'Expo universale, spero, signore, che grazie a questo apporto al riavvicinamento dei popoli, l'Italia contribuirà ad allontanare il mondo dalla situazione in cui l'uomo diventa lupo dell'uomo, secondo la visione di Hobbes, per promuovere l'avvento di una nuova fratellanza umana.